Il Real Marcianise supera 2-1 la Val di Sangro con un gol di Poziello al 32esimo della ripresa, dunque terza vittoria consecutiva per la formazione di Vullo che sale così al terzo posto in classifica. Si inizia con la premiazione agli ex di turno da parte del pubblico di Marcianise e dei tifosi a mister D'Agostino e Armellini. D'Agostino due anni alla guida del Real Marcianise. Poi le squadre scendono in campo, le formazioni sono quelle annunciate tra i padroni di casa con Filosa che sostituisce lo squalificato Sgarra. Le due formazioni si studiano per i primi dieci minuti, poi sono proprio i padroni di casa a sfiorare il gol al decimo minuto con una bella percussione centrale di Poziello con la parata di Armellini. Si iniziano a far vedere gli abruzzesi che dominano la scena praticamente per tutto il primo tempo. Al quattordicesimo ci prova Galuppi, innescato da Bernardi. L'attaccante di D'Agostino si ritrova tutto solo davanti a Fumagalli che esce la disperata, poi il rimpallo premia lo stesso Galuppi ma poi la sfera viene salvata sulla linea e la difesa libera. Al ventesimo insidiosa punizione ancora di Galuppi e Fumagalli devia in corner. Quattro minuti, acrobazia di Bernardi che conquista un calcio d'angolo. Passano appena 120 secondi e al ventisesimo una bella azione manovrata degli ospiti con Cecco Belli che ci prova dalla distanza. La sfera esce comunque alta di un paio di metri. Un minuto, Schiavone perde palla al centrocampo, Sanguinetti si invola ma spara al lato quindi Marcianese ancora una volta graziato. Il finale invece è tutto per il Real, al ventinovesimo Schiavone ci prova con un esterno, Armellini c'è e respinge. Poi al trentatresimo una punizione dalla distanza di D'Ambrosio, il portiere riesce a controllare in qualche modo, poi tenta la rovesciata l'ex di turno innocenti ma l'arbitro ferma il gioco per offside. Squadri negli spogliatoi, a inizio ripresa subito il gol del Real Marcianese. All'ottavo un bel numero di Pozziello che mette al centro per innocenti lasciato inspiegabilmente solo e il Marcianese è in vantaggio. Si iniziano ovviamente, solita girandola di cambi, dall'altra parte, quattro minuti dopo, al dodicesimo punizione dalla destra di Marinelli, Fumagalli smanaccia in corner con il pugno. E poi al ventottesimo, stessa posizione, stavolta batte il neoentrato romano, stacca di testa, Cresta che fa 1-1 e gela il progreditor. A questo punto non ci sta il Marcianese che si getta all'attacco, manco pesca proprio Pozziello che con un tiro imprendibile fa 2-1 e dunque primo gol stagionale in campionato per Pozziello che fa esplodere letteralmente lo stadio qui a Marcianese. In chiusura all'ottantanovesimo, Bernardi ci prova sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Fumagalli respinge con i pugni. Poi festa grande per il Marcianese che si ritrova prima della pausa, al terzo posto in classifica.